Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti nella mia cucina, oggi facciamo colazione assieme Cosa c'è di meglio che iniziare la giornata con una meravigliosa colazione estiva, fresca, leggera, sana, healthy Come dico io? Vi dovevo troppo far vedere questa colazione che sto facendo da alcuni giorni, mi sta piacendo tantissimo La trovo perfetta per l'estate perché leggera, non appesantisce e ci permette di rimanere in forma, di nutrirci bene Perché la mattina bisogna fare una buona colazione con tutti i nutrienti, quindi adesso vi farò vedere come Per ovviamente non avere mancamenti, sentirci energici, adesso col caldo, tutto e strumento qua Però insomma non ci vogliamo gonfiare, non ci vogliamo appesanti, non vogliamo rimanere belle e snelle e in linea Insomma, è una cosa molto semplice, molto fresca e lo potete fare tutti La prima cosa che ci tengo a dire, appena mi sveglio, prima ancora di fare colazione, acqua Adesso che state a temperatura ambiente, ce la prendo dalla bottiglia che è fuori dal frigo o dalla fontana In inverno, vi ricordate, la bevo calda ma adesso ce la faccio Con una spruzzatina di limone Questo lo faccio appena mi sveglio, proprio appena mi sveglio Per aumentare il mio senso di voglia di bere durante il giorno Cioè bevo questo, poi durante il giorno ho molta voglia di bere e quindi bevo molto che fa bene E per il fatto di purificare l'organismo È come una pulizia interna del corpo, ve l'ho detto tante volte È veramente ottimo per stare in forma, per purificare il corpo ma anche per la pelle, per tutto Quindi appena mi sveglio e poi vado in magno, faccio qualche trottarellina, trottarello per la casa E dopo un tipo, un quarto d'ora, 20 minuti faccio la mia colazione Adesso per questioni di tempo farò subito la colazione ma comunque passerà secondo me un 10 minuti che la preparo L'ingrediente fondamentale per me è questo qua Lo yogurt 0 greco, quindi light 0 grassi Questo qua è fondamentale perché la mattina molte persone fanno l'errore di non mangiare le proteine La mattina mangiano solo carboidrate, invece non va bene Bisogna mangiare sempre una quota di tutti i macronutrienti Quindi anche le proteine perché ci aiutano proprio a mantenere il peso col fuori, a stare in forma E anche per chi si allena eccetera, comunque fanno benissimo le proteine Metto, tipo questo qua, me lo faccio pure in due giorni E' equivalente tipo a quattro vasetti piccoli Quindi è come se mangiassi due vasetti di yogurt ogni volta Eh sì sì, perché ho tanta fame, quindi ne mangio un metto Ok Adesso che ho messo tutto lo yogurt qua dentro Il mio segreto per renderlo più cremoso Perché questo qua è troppo acidulo, è troppo denso, a volte non è gradevole Io faccio così, il mio segreto Non è segreto proprio Ci aggiungo un po' di questo qua, che è uno dei miei latte di soia preferiti che compro al suo mercato Naturale, senza zuccheri aggiunti eccetera Molte persone mi chiedono spesso, adesso dato che c'è voglia di chiacchierà Chiacchieriamo allora, insomma alla Sabina Ferilli Vi risponderò a questa domanda che mi chiedete spesso proprio in questo canale Anche nei video di cose che compriamo al suo mercato Proprio uno degli ultimi che avevo fatto la spesa al suo mercato Mi avete chiesto ma perché tutti i prodotti senza zuccheri, senza zuccheri Anche per le persone che sono in forma, che sono magre Perché non vanno bene gli zuccheri Allora non è un problema di essere magri Lo zucchero, proprio quello aggiunto, lo zucchero bianco È un ingrediente che comunque prima di tutto è trattato chimicamente E poi non è un ingrediente naturale Lo so che è strano da pensare Ma gli unici zuccheri Noi già mangiamo zuccheri, cioè ad esempio questa colazione Io non aggiungerò zucchero Ma è già ricca di zuccheri Perché ci saranno gli zuccheri della frutta Gli zuccheri ad esempio dell'avena Quindi questi sono gli unici zuccheri naturali che noi dobbiamo mangiare Non abbiamo bisogno di zuccheri artificiali I zuccheri contenuti nei cereali La pasta ad esempio contiene zuccheri La frutta contiene zuccheri Ok, non abbiamo bisogno di aggiungere zucchero per dolcificare Io non utilizzo mai zucchero A meno che non mi viene voglia una volta di mangiarmi un dolce da pasticceria Una meredina, un gelato In quel caso ci sono gli zuccheri Ok, una tanto, un falso Però quotidianamente eccessive dosi di zucchero Fanno male Oltre al fatto di fare ingrassare Fanno male Quindi parliamo anche di salute Vi ho fatto sta piccola parentesi Nel frattempo quindi ho aggiunto il latte di soia E vedete che diventa una cremina È molto molto più piacevole da mangiare con questa consistenza Per dolcificare ad esempio faccio così Io ci aggiungo questa qua Questa è la marmellata composta di frutta Guardate, con solo zuccheri di frutta Cioè è fatta con Questa è di lamponi, rigoni di asiago Che compro al suo mercato C'è di tantissimi gusti Ve ne ho parlato spesso Io la adoro E la compro principalmente per questo Cioè la uso a piccole dosi per dolcificare Perché in questo modo Vado a dolcificare soltanto con frutta Quindi naturale Non ci sono zuccheri aggiunti Quindi è molto molto meglio E io ne metto tipo così Guardate che è un cucchiaino Qua dentro E vado a mescolare E così Guardate come diventa bello Tutto colorato Diventa dolcificato naturalmente Già così il vostro yogurt È molto più buono rispetto a Quando lo prendete là dentro Che è duro, è acidulo Così è dolce, è cremoso È buonissimo, me lo assicuro A questo punto ci vado a mettere un po' di frutta Io ho scelto albicocca e fragole Ma ad esempio ci potevo mettere un kiwi Ci potevo mettere le ciliegie Qualsiasi frutta Senza esagerare Un paio di frutti Insomma vanno bene Perché vi ho detto La frutta senza esagerare Perché molte persone fanno l'errore Di abbuffarsi Ingozzarsi di frutta D'estate È anche una cosa sbagliatissima Mangiare solo frutta Ad esempio a colazione È molto molto sbilanciato Noi dobbiamo mantenere sempre Tutti i macronutrienti Proteine Grasse e carboidrati Principalmente Soprattutto a colazione Che è un pasto Come il pranzo E la cena Quindi non è uno spuntino È un pasto completo Quindi mangiare solo frutta Non va assolutamente bene Un abuso di frutta Fa comunque male E fa anche ingrassare Quindi non pensiamo Che a pranzo Saltiamo il pranzo Ci sono molte persone Che sono dei geni Saltano il pranzo E mangiano un piattone Con dieci frutti Avete fatto peggio Cioè ingrassate più Della pasta Perché la frutta Fa innalzare tantissimo La glicemia Cioè un picco glicemico Come la mangiate E se non la consumate Quindi non avete Tipo una sessione di allenamento Una cosa del genere Subito si va a depositare E diventa Quindi vi fa ingrassare Tra virgolette Oltre che questi picchi glicemici Fanno anche male Proprio alla salute Quindi mi raccomando Piuttosto Aggiungiamo anche un po' Di carboidrati Questi qua A lento rilascio Che hanno un indice glicemico basso L'avena Fiocchi di avena Che quindi Manterranno l'energia Nel nostro corpo Anche durante tutto il corso Della giornata Quindi io ci aggiungo I fiocchi di avena In questo modo Ne prendo una manciata Ecco qua Così Poi ci aggiungo Anche un po' Di questi qua Questi sono i cereali integrali Che io e mia sorella Abbiamo comprato All'idol Lidol Di cui vi abbiamo fatto Ultimamente Trovo il video Con tutti gli acquisti E anche questi qua Ne prendo un pugnettino Questi sono integrali Quindi sono ottimi Anche per regolarizzare L'intestino E anche questi qua Hanno un indice glicemico Molto basso Quindi vedete Ho messo Capoidrati Alto indice glicemico Quindi la frutta E questi qua Basso Ok Adesso cosa ci manca Ci mancano Un po' Di grassi Un po' Di grassi naturali In questo caso Ho scelto le mandorle Le mandorle Sono consigliatissime La frutta secca Da mangiare al mattino Perché Contengono Anche se sono proteici Quindi contengono proteine E contengono grassi buoni Che fanno benissimo All'organismo E servono anche Come spezzafane Cioè praticamente Vi evitano di avere Degli attacchi di fame Durante il giorno Quindi io prendo Una manciatina Di mandorle Sapete che a me Non piace pesare tutto Quindi per avere 8 proteine 8 peso No Non mi piace pesare tutto Perché la cosa Di pesare Ogni minimo Ingrediente E fare conteggio Eccetera La trovo troppo Non ho tempo Insomma Per mettermi a pesare E poi secondo me Il cibo bisogna anche Godercelo Insomma Non andrei mai A mettere tutta la borsa Di mandorle Ne prendo un pugnettino E ok Siamo a posto Insomma Una decina Di mandorle Andranno bene Ok Le ho fatti un po' A pezzettini Vedete In questo modo E adesso Cosa ci manca? Abbiamo finito L'unica cosa Che ci aggiungo Immancabile Le mie bacche di goji Queste contengono Tanta vitamina C E anche proteine Quindi io metto Un po' di bacche di goji Anche queste senza esagerare E un po' di semini Io scelgo sempre Semi di chia E semi di vino Che a me piacciono tantissimo Sono ricchi di fibbe Di proteine Di vitamine Le adoro E ne metto di solito Un cucchiaino Senza esagerare Tutti senza esagerare Ecco qua Un po' di semini Ci vogliono E' un uccellino Con tutti questi semi Vabbè Eccola qua La nostra colazione È completa È bilanciata È leggera È molto nutriente È super Light Come dico io Ed è buonissima Cosa importante Se non la volete mangiare Subito Potete anche lasciarla In frigo Ad esempio Potete prepararla Anche per la merenda Un po' in più Lo conservate Si fa ancora più buono Quando è bello Freddo Freddo Tutti i sapori Si mescolano Diventa buonissimo Quindi ora Me la magno Mi raccomando Lasciatevi un bel pollice in su Se vi è piaciuta Questa colazione Questa chiacchierata Insomma Assieme Magari ve ne posso fare Anche altri Appena cambio colazione Faccio uno nuovo Quindi fatemi sapere Con tanti like Se approvate questa cosa Io vi mando un bacio a grande E buone estate a tutti Ciao 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 Ciao